Martedì, entro martedì la decisione definitiva, nelle ultime ore, come vi abbiamo raccontato ieri, contro sorpasso di Zeman su Alberto Colombo, tra l'altro Colombo corteggiato dalla Carrarese non ha ancora dato una risposta alla società toscana il tecnico Lombardo, perché? Perché aspetta appunto il Pescara, con entrambi ci saranno degli incontri, sabato probabilmente con Alberto Colombo, domenica è previsto invece un incontro con Zdenek Zeman, entro martedì prossimo la decisione definitiva, intanto la notizia che riguarda un abruzzese, ovvero Morgan De Sanctis, originario di Guardia Grele, è il nuovo direttore sportivo della Salernitana.